La sindaca Cecilia Francese in una nota spiega Non possiamo che salutare con piacere l'improvvisa conversione ambientalista dell'Asi, la quale ha annunciato la propria avversione all'insediamento di nuovi investimenti legati alla lavorazione del rifiuto nell'area industriale di Battipaglia. Di certo potremmo dire che troviamo originale la modalità considerata la necessità delle associazioni invitate all'incontro di precisare la loro posizione rispetto alle chiarezioni del presidente dell'Asi. Avremmo di certo preferito che questa conversione avvenisse prima, molto prima che la nostra area industriale fosse ridotta ad una sorta di polo dell'industria del rifiuto. La sindaca, inoltre, dice che questa posizione è un fatto positivo, che ci rende ancora più forti al tavolo politico regionale che abbiamo chiesto in via di urgenza anche alla luce dell'ultimo incendio che ha interessato a una delle imprese di lavorazione dei rifiuti presente nella nostra area industriale. Significa che a fronte del silenzio della regione rispetto alle richieste avvieremo forme di lotte e di protesta anche estreme. Proporremo all'associazione ambientalista di Battipaglia di concordarle assieme. Finalmente ci troveremo al nostro fianco anche l'Asi. Nel frattempo ha chiesto agli uffici comunali di studiare forme di modifica delle norme di attuazione degli strumenti urbanistici per porre con chiarezza il diniego del comune di Battipaglia ad accogliere altre industrie del rifiuto. I comuni devono riappropriarsi della gestione del proprio territorio. È fortemente sbagliato, oltre che pericoloso, pensare che si possa continuare ad accettare in silenzio scelte altrui. Su questo abbiamo aperto la discussione. Vogliamo misurarci con gli imprenditori, con i comuni limitrofi e con la regione. Tutto il resto appartiene al passato, non ci appassiona.